Sicuramente era importante portare a casa tre punti oggi, dopo le prime quattro partite che avevamo strappato solo tre punti, quindi siamo felici, ci prendiamo questi tre punti e cerchiamo di continuare così. Abbiamo visto felice veramente, normale, hai fatto gol, però anche il frutto di un lavoro che parte da lontano. Sì, certo, sognavo questo gol dal primo giorno che sei arrivato a Roma, sono felice che sia arrivato, sono felicissimo, ho festeggiato i miei compagni, è la cosa più bella che potesse essere. Una partita intensa, bella? Sì, sicuramente una partita intensa, bella, l'abbiamo messa subito nel modo giusto, siamo stati aggressivi come il mister ci aveva chiesto e quindi siamo felici di questo, dovevamo tornare a casa con tre punti oggi e ci siamo riusciti e siamo felici.